Sarebbero già decine le segnalazioni arrivate in municipio a Padova nelle scorse ore. Parcheggiatori abusivi, mendicanti insistenti e lavavetri ritornati in auge, questi ultimi in particolare alla stanga posizionati subito dopo la grande doppia rotatoria all'altezza dei semafori per il Centrogiotto e per Ponte di Brenta. Il sindaco Giordani ha dato disposizione al comandante reggente dei vigili Lorenzo Fontolan di incrementare i controlli e di allontanare le persone che non danno tranquillità ai padovani e a chi arriva in città da turista o per lavoro. Le attività saranno svolte da agenti in moto, in bicicletta e anche con l'aiuto dei cani addestrati. Niente a che fare con eccessi propagandistici, ha precisato Giordani, non mi interessano. I vigili dovranno essere sì determinati ma al tempo stesso scrupolosi nel far rispettare le leggi. Vogliamo agire per restituire alla città quella dimensione di vivibilità, accoglienza e tranquillità, oltre che naturalmente di sicurezza, che le è consona. Grazie. Grazie.